Isolati anche nella nostra regione i primi casi di Covid-19 riconducibili alla variante Centaurus, la sesta variante del Covid. Si tratta di tre pazienti del Terramano, due a Corropoli e una al Badriatica, i cui campioni sono stati sequenziati dagli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Caporale di Teramo. Variante individuata per la prima volta in India, dove comunque non ha causato alcuna ondata di ospedalizzazione, come avvenuto in passato con la Delta. Centaurus è una delle ultime varianti di SARS-CoV-2 emerse nel panorama mondiale, che la comunità scientifica sta seguendo con interesse, perché potrebbe diventare dominante sulle altre ad oggi circolanti. Infatti, al momento, la variante prevalente resta Omicron responsabile della quasi totalità dei casi. A differenza di quella al momento prevalente definita variante di preoccupazione, Centaurus è una cosiddetta variante di interesse. Chiamata così dagli utenti dei social, le evidenze attuali dicono che non è possibile distinguere Centaurus da Omicron 5 sulla base dei sintomi. Questo perché le due varianti causano una sintomatologia molto simile, anche se Centaurus sembrerebbe essere più contagiosa. Ovviamente l'appello di medici ed esperti è quello di proseguire con la campagna vaccinale al Covid e anche quella antinfluenzale, in particolare per le categorie più a rischio.